... ... ... ... ... ... ... Dai, vai Tira, tira Adesso deve Suspita Piaccia il gomito destro Ginochi e il gomito destro da fuori Non permetti che scappa Adesso da qua cambia posizione Oh, ok Adesso puoi tranquillo andare Hop Copri, copri, copri Molto più profondo a destra Più profondo così Si Adesso prendere Ok Sei molto più Non so Non so Deve essere molto più Adesso prendere Avanti Qua puoi fare senza prendere niente Ora, io avrei Questo come una variante Interessere Spettacolare Invece io posso fare questa cosa Vedi? 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 Non mi interessa mai nient'altro Non mi concentra su prendere i tuoi braccio Vedi? Guarda Vedi? 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 Invece io C'è una cosa Io Gli C'è una cosa Non mi interessa Non mi interessa C'è una cosa Quaranta 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 Ora io sono qui Adesso difenditi dalla mia gamba Grazie Ma perché diciamo Stai difendendo proprio speciali Prova a fare con questo Riprendo Obiettivo di Obiettivo di avversario Sarà Perciò difendere Vale Prova a permettere a farlo Uno Sarà Molto più Diciamo Disponibile a prendere la sua gamba Che a difendere Quando io inserisco i tavoni Sì Tu diciamo vuoi difendere Sì Ok Ok E io qui Capisci? In realtà sì No Bene Io vado da un'altra parte Ancora un'altra parte Però molto più brutta Molto più brutta Molto più brutta Non 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 Ti Non Non Sì, ma... Con concentrazione perché c'è tutto molto... Invece questa cosa di appoggio... Deve essere molto funzionante. E quindi... Perché... Noi perché vogliamo questa cosa di appoggio? Non permettere di uscire, d'accordo? Ad appoggio invece come? Questo. Vedi, io ti controllo. E poi ti controllo qui? Io vado. Vedi, tu stai uscendo, va uscire. Come vuoi? Ok, ok. Bene, ancora una volta. Come variante. Ok, ok. Ok, ok. 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 controllo di te adesso di qua però per fare questa cosa prima esce con un porto e adesso si controlla molto rischiante è ripieno si, ti prendi testa si, prova se non ci prendi testa ma si, non lo so non lo so si, non lo so se ne va bene, adesso è qui è qui in questo modo qui bene, in una parte in una parte la parte si Il problema di questa cosa, un problema vero, è proprio di inserire il veloce pallone, diciamo non perdere il controllo di schiena che devi stare a colpire, il problema di tutti i movimenti sono in periodo di transizione da un punto all'altro.